mister torna liberati dopo parecchi anni da ex però con un natale un pochino amaro visto il risultato del como però la prestazione è stata buona quindi avevamo da tre vittorie due pareggi abbiamo visto abbiamo visto la partita tutti se va dentro il gol di tavares sul 1 a 1 magari portavamo via anche la vittoria alla fine ci sono stati tre tiri da una parte tre tiri dall'altra forse la ternale primo tempo molto meglio ma senza tirare in porta secondo tempo alla prima occasione noi su punizione uno schema che abbiamo sul secondo palo abbiamo fatto gol e poi tavares ha preso una traversa incredibile sul 1 a 1 cambiava la partita il calcio è questo un episodio favorevole un episodio sfavorevole perché sulla respinta del nostro difessore su quattro difessori è andato proprio adesso non voglio dire perché il portiere tedesco ma non l'ha sentito quando ha detto mia e quindi è venuto fuori gol della ternale poi abbiamo avuto l'occasione anche del tiro portiere battuto che non so neanche se è rigore o non è rigore quello di filippini attraversa quindi devo dire bene della mia squadra anche perché avevamo dentro tra 91 e 2 90 la squadra giovanissima in questo momento abbiamo cinque giocatori infortunati e se la sono giocata la parte riuscire a non fargli fare un cross in tutta la partita della ternale è stato un motivo d'orgoglio anche per questo un crosto dicendo perché giocando così con gli esterni alti venivano fuori due mediani a marcare i difessori centrali che è una mossa secondo me importante quando giocano una difesa a cinque alla fine si giocava uno contro uno in fase ma avete visto che abbiamo limitato tutti i danni senza farli tirare in porta. Ottima pressione nel secondo tempo all'inseguimento di un punto che ad un certo punto sembrava potersi materializzare vista la supremazia sul campo che stava esercitando la sua squadra sul piano del possesso palla e sul piano dell'atteggiamento dell'approccio offensivo forse diciamo forse la chiave di volta per porre fine alle vostre speranze a gran parte di esse gliene accennavo prima dell'inizio di questa intervista potrebbe essere a suo giudizio la sopraggiunta inferiorità numerica? La inferiorità numerica per un fallo netto che l'abito ha giudicato male Filippini penso che l'ha mandato a fare un bagno diciamo un bagno ha cambiato gli ultimi dieci minuti della partita perché con dentro Filippini in quel momento tenevamo loro si erano richiusi tutti nella loro metà campo cercavamo di buttare dentro il pallone poi magari non facevamo gole e vincevano la 3 a 1 però è logico giocare uno in meno gli ultimi dieci minuti un quarto d'ore più avere l'infortunio di Zullo mettere dentro un altro ragazzo al 91 e dopo di un bagno avevamo una squadra giovanissima alla fine ma dico se pareggiavamo questa partita non c'era niente da dire perché l'abbiamo giocata alla pari abbiamo avuto l'eccosione alla pari e quindi sono contento di quello che hanno fatto finora i giocatori della Como La state vivendo da protagonisti siete fra le protagoniste in positivo di questa lotta alla vertice al termine di un girone intero del girone di andata da esterno da detto ai lavori come si sente di giudicare questa Ternana e le squadre a più stretto ridosso della formazione Rosso Verde avendole affrontate da avversario? La Ternana è una buona squadra, inutile a nascondere, certe volte farà fatica magari a trovare squadre che si metteranno sulla difensiva però è una buona squadra e penso che possa arrivare tranquillamente alla fine per giocarsela io direi anche se ha perso oggi la Provinciali mi sembra una squadra quadratissima arriveranno tutti i valori dall'inizio del campionato che tutte le squadre favorite arriveranno là a giocarsela alla fine noi in questo momento possiamo dire che siamo una mezza sorpresa perché alla fin fine siamo partiti bene, poi c'è stato un caldo, dopo tre vittorie e due pareggi eravamo in zona playoff adesso siamo fuori, cercheremo di fare un buon girone di ritorno però io penso che all'ultima partita quando la Ternana è a Como io direi che potrebbe esserci anche potrebbe essere una sorpresa perché alla fine anche voi siete partiti come noi all'ultimo momento con pochi giocatori, quindi sarebbe una grandissima sorpresa vedere la Ternana là davanti Taranto? Taranto, dico la verità, sta sfruttando moltissimo la sua capabilità difensiva però noi abbiamo perso là e abbiamo avuto molte più occasioni da far gol quindi alla pari, alla pari vediamo un po' chi delle due riesce alla fine a superarsi Grazie a me, buon ritorno Salve